Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind Allora ragazzuoli Brutto detto si però lo volevo dire Allora saremo rimasti qui con la quinta posizione in classifica Anzi con un'ottima posizione in classifica data la squadra Cioè è vero noi che comunque siamo nella promossa E insomma questa è la classifica Giudicate voi per me è una posizione più che ottima Ed inoltre ce l'avevamo lasciati qua al 2 gennaio Non l'1 perché per chi avesse visto il precedente video l'1 gennaio c'è stata la partita contro il Verona Quindi ho dovuto per forza giocarla e terminare il video qua Niente quindi cosa significa? Significa che con ciò è iniziato ufficialmente il calcio mercato invernale Quindi io direi di diciamo entrare nel vivo di esso Quindi allora innanzitutto andiamo su vendita giocatori Perché nonostante comunque la nostra rosa non sia così ampia Secondo me è giusto vendere qualcuno E magari con questi pochi soldi che magari uno fa forse Vendendo qualcuno Io mi riferisco a vendere giocatori messi dal gioco Al termine della scorsa stagione Perché altrimenti non arriviamo neanche a numero minimo E giocatori presi solamente per far numero Quelli svincolati Io direi di metterli in vendita Mi riferisco appunto a quelli che chiaramente hanno anche Cioè soprattutto un valore totale Qualitativo piuttosto basso No Barilino no Barilino no Pecnic sì assolutamente Via Abney non so se darlo in presto Perché comunque gioerebbe Angelino Va bene si lascia dai tanto E poi per il resto Va bene sì sì Insomma e questo è Quello che riguarda La probabile vendita O perlomeno la messa in merito Di determinati giocatori Ora Io direi di chiedere qualche scitto Ardo Perché comunque è una posizione che è questa Ardo Boh mettiamo qualificati per Europa League Ardo diciamo che Se la sognava Almeno Credo Quindi forse potrebbe darci qualcosa No? Proviamo Adio a due Adio come è mai successo questa sabina Boh vabbè accetta E accetta Oh Me la date C'ho 3 milioni No Ma perché c'ho 2 milioni Ma ne è macane Boh vabbè è andata così Non ho capito mai mai Però Insomma Quindi qualcosa ci siamo Volevo vedere se è cosa Questo vi Dovrebbe esserci qualcuno Che ha contatto in scadenza No? Aio Vertonghi Io proverei a fare qualche offertina Aio Gondogan Io proverei a fare qualche offertina Per questi gestori Allora Cosa fa Parte dei Ma come fa bimbi Ma chissà zarda Cioè Boh Fate vedere se c'è Magari va alcuno Perché quanto prendi A colui ci potrebbe Sta Credo Proviamo Da lì C'è anche Goz Volendo Ma chi ce l'ha Tutti sti soldi Non avresti voglia Non troppi soldi Anche volendo Niente Boh Proviamo intanto a fare l'offerta Per lui Perché anche se dovesse Arrivare la prossima È pur sempre Un ottimo giocatore Per la nostra squadra No? Aio Addio Addio L'hanno contattato Comunque Trasferimento Chi è Ordegard Boh È tanto eh No ma io voglio Proprio rischiare Se devo vendere Ordegard Devo proprio fare Affarone Di veli grossi Romo Aio No sì Romo lo vendo Solo to Così Non sbaglia Vai così Sì Se me lo accetta Così bene Se no Grazie Arrivederci Dai De Non ce l'ho Non ce l'ho Riproviamo Sì De Boh Ma De Per mille euro di meno Ma di che macane No ancora Odegard No lo spazio No Era uguale De Si provava Sì Sette Vai via Proprio Per scende un pochino Aio Lo stoccard Da no 5 milioni No Si è accaduto 7 Anziché 7 e 5 No uguale Ma ormai mettiamo 7 come prezzo Io giù non scendo Vai via Te subito Vai via Vai Ciao bello Insomma Intanto siamo arrivati A fare L'ultima partita Del giro di Dandà Se non sbaglio La diciottesima E si va a giocare Contro La nostra Tra virgolette Tra virgolette Appunto Rivale Dello scorso anno Il Cagliari Ovvero un'altra Nella promossa E niente Che però Va detto Bisogna essere realisti Che momentaneamente Il Cagliari In confronto a noi Guardando L'anno scorso Quest'anno Fa ride Nel senso L'anno scorso Spaccò il campionato Quest'anno No Tanto bellisce Clamoroso Anzi Quest'anno Se non sta attento E retrocede Perché se non sbaglio Avanti è terzo Ultima Insomma Si aggira in quelle zone lì Comunque Sotto l'acqua Strano Iniziamo a giocare Voi Max e Milan L'hanno fatta Dio Bono De Ho fatto Una cappellata Vai Armestrong Il solito Eccola lì Ad Armestrong L'astronauta Fa sempre con lui Fa sempre con così E come sempre La sblocca lui Una a zero Livorno A pochi minuti Dal termine Del primo tempo Ad Armestrong Ci pensa lui Se accenta Di destra Di piattone Di precisione Tra l'altro Come dio sempre Perché è la verità Anche abbastanza potente La butta dentro Una a zero Armestrong L'hanno fatta No Ho voluto tirare subito Mamma mia cosa si è buttato via Mamma mia cosa si è buttato via Comunque Finisce così il primo tempo Una a zero Come sempre Sbloccata Anche come sempre Come quasi sempre Partita sbloccata Da una rete di Adam Armestrong L'astronauta E ora andiamo a fare il suo tempo E speriamo di Continua Su questi ritmi qua E girati e tira Tio monode Ceretti Fentrò davanti Cambio Verremo a capo Però Guardate voi De guardi Soliti Guardate Cerny Metta anche l'ex Barellino Vai Attenzione eh ragazzi Tu a Romo Addio 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 Mamma mia Meno male Mamma mia Olè Via Ancora una volta Facciamo tre punti E mi tocco Tanto Per Via Siamo rimasti Sul risultato Del primo tempo Una a zero Partita Non è Meritatamente vinta Guardate anche le statistiche Però Non è eccessivamente Elettrizzante Però Non ne ho se conta Alla fine E vince No? Quindi niente Altri tre punti Una a zero Continuiamo il nostro Carciomercato Allora Attenzione Un'offerta per Pecnic No Almeno si è 50 Vero e scarso Però Boia Dio Tanto Se si fa No Voglio 10 Voglio 10 500 No Vabbè Tanto va via Cioè Probabilmente Non ho visto Che Il Bilbao Ha accettato L'offerta Tanto Ve l'hanno ancora Rifiutato per Odegaard E ci riprova Consente Non te lo do Voglio 7 Di meno Non ve lo do No 7 Di meno Non scendo Comunque Venduti Prepelita E Romo Andato via Quindi Tanto vale Ora Innanzitutto Provare a prendere lui 1 Vai Ne si dà 72 Vai così E poi A prendere un altro portiere Che se ora siamo senza E io di nomi Grazie a consigli che mi avete dato Ne ho due Ovvero Io faccio Chiaramente due offerte Poi quello che viene prima Prendo Ovvero Dragowski Che è veramente Un portiere Per chi non lo sapesse Non so neanche se lo Lo disti già Però è eventualmente Lo rio Veramente un portiere Con molta 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 Prospettiva Anzi di prospettiva E ci schiocco lui E mi provo a Boh Ma mettiamo Vattro Vattro e 5 Vai E l'altro È Blanco Che se non sbaglio Ci dovrebbe Chiamare Ruben Blanco Ci può stare Ruben Eccolo V Anche lui È un altro Di prospettiva Quindi Boh Mi schiocca lui Tanto per Inoltre Da te siamo V Io proverei A prendere Un difensore Perché Io di centrale Non ce l'ho E riprovo A prendere Uno di quelli lì Che provai Appunto Cioè Uno di quelli lì Al quale Fesce un'offerta Nel precedente Carciomercato Addirittura se non sbaglio Vello invernale Del precedente anno Ovvero lui Cioè A lui A Lucas Nernandez Da Tatico Madrid Lui è Arturamente Di prospettiva Clamoroso E Boh Proviamo a prenderlo Non so Sicuramente Vorranno l'abuso di soldi Non ce la faccio Però io ci provo No? Ancora Sì Io faccio vedere Se viene bene Se no No Ma Boh Ma forse Non lo prendo nemmeno Non lo so E Ma dietta la miseria Sette Sette Via Un'accettata Che Pepecnic Una grande assenza Virtualmente A riborda Guarda Sei in nove Voglio vedere Voglio vedere Se me lo accetti Per 100 mila euro di meno Questa è un abbandonato Allora Hanno accettato Eh la Eh la Proviamo Via Anche il Zertavigo Accettato per il portiere Buono E qui hanno accettato Per Odegaard Venduto Pecnic Intanto Te ho mai rotto Guarda Non ti voglio più Basta Comunque Ora ragazzi C'è un piccolissimo problema Che può diventare abnorme Ovvero che Si spera Solamente per questa partita qua Si gioca con Poeta di Serva Che è lui Balanta Che è un 50 vattro Quindi niente Andiamo a fare questa partita E che Dio c'è la mandemona Sperando che non facciano tanti tiri Da vedere Insomma Andiamo un po' Si vai Meno così Insomma Iniziamo a giocare E E fra l'altro Questa V potrebbe essere Anche l'ultima partita di Odegaard No Vai Armstrong E' sempre lui ragazzi Ed è sempre lui ragazzi Ed è sempre lui ragazzi Mamma mia Ma quanti gol fa Ma quanto è forte Ma quanto Con Gritnub Questi ragazzi Troppo Troppo Ma quanti gol è? Quattro 12 12 In totale Non lo ricordo nemmeno io Non solo che è Prima della presidenza Ma il casero La butta sempre dentro ragazzi L'astronauta Il nostro gioiellino Il nostro pupillo Adam Armstrong 1 a 0 Vai Nukuri Maremma Bona Che fa risolto E tutto E meno male Vai Su Via Piccionaia Ale E' buona Maximin Vai bello Tira No Ma per un momento Pensavo Andasse in porta Va bene Comunque Ci siamo Sì Insomma Venisco Sì Primo tempo Primo tempo Che ci vede solamente In vantaggio Di un gol Perché Se ne poteva fare Almeno un altro E Niente Giusta Sì In vantaggio E quindi Niente Va a farsi lo tempo Sperando un cambi niente Vai Maximin Sfruttala E che Cazzo Dei due Ripetirà Meno male Vai Ogni tiro Viene un periodo Eh ragazzi Con ballanta Vai Odegaard Dio buono Ci potevi Evidentemente Vabbè 2 a 0 Alla fine è stata uguale Angelino Fra l'altro Angelino Abbiamo visto che non era Armstrong Però Dove avevo visto Se faceva Godegaard Perché col fatto Che forze Anzi Molto probabilmente Ci lascerà Era bene Se ci lasciano in bellezza Comunque Resta rifatto Mentre qui c'è l'esultanza Io faccio un bel cambio E faccio uscire proprio Odegaard Per l'ultima volta Forse Chissà Se mai In futuro Sempre se alla fine Dovesse andare via Lo Dovessimo riprendere Chi lo sa Comunque Cambio Niente Pensavo lo facessero vedere Invece Una merda Vabbè Fatti il flop Vai Nocuri Altruista Altruista Chiocchete Che culo Che culo Maximin 3 a 0 Mamma mia Che predominio Che predominio Ma come si gioia Ma che bene ragazzi Wow Wow La parola che posso dire È wow Sì Strano 3 a 1 Strano Tiro in porta E go Friscio sì 3 a 1 Trasciando Quella mezza dormita Sul Sul go di loro Partita Dominata Sì dal primo minuto Oh Bimbi E Ci siamo Dei Bisogna essere realisti Ci siamo E si gioia bene Si vince E Niente Bene sì Beh lo so contento Nonostante Lo dia per di Però L'handicap Importa Siamo riusciti a vincere Meritatamente Torniamo a noi Allora Qui Vabbè Qui di Oligard Che uguale Che vabbè Tanto in teoria Vabbè Aveva accettato Miro di nemmeno la squadra Chi sia Comunque hanno accettato altri Allora Oligard è andato Ed ora ci sa Grazie alla cessione Più sia Milioni nel budget Trasferimenti E il suo stipendio Nel budget Stipendi Sì Mi stavo per impoppinare Comunque No Prima 20 Gioatore chiave Ed effettivamente C'è da sostituire Oligard E io Ho intenzione di prendere Uno Che anche se Come ruolo ideale Non ha proprio questo È comunque Un centrompista centrale Ovvero Benassi Benassi Ragazza A me In FIFA Ma è sempre Garbato Ne Quindi Fate vedere Sempre se ce la dovessi Fa Se me la posso Prendere Speriamo sì O altrimenti Un altro Che lui In teoria Come ruolo Ha proprio questo Cioè proprio un C o C È lui Correa Andiamo un po' Sperando che non sia un flop Eventualmente Boh Mettiamoci lui No Due milioni Vai E per concludere Eventuali acquisti Io ci schioccherei Un'altra volta Zivkovic O Zivkovic Ve lo volete Ma Anzi Aspetta Fammi vedere Scambio giottere o no No Si provava sì E uno O in alternativa Sempre parlando di attaccanti Questo è un consiglio Che mi hanno dato De Luca Del Bari Dov'è Eccolo ve È un S Pensavo fosse una T Cioè del Bari Gioava nel Bari A tempi Ora ve Non si è andata all'Atalanta No Anche lui come Zivkovic O Zivkovic Così Senza Scambiarci nessuno Andiamo un po' Oh Strano Stavo un po' insieme Ne Stavo 50 Vai Gioquatore chiave Aio Aio Oddio Vogliono lui De accetta Vai Ne No Eh Ora siamo nella cacchina Deve arrivare qualcuno Deve arrivare Alle Blanco Vai Almeno il portiere ci sa E' già qualcosa Vai A quanto volete No Tre Torino Vai Così Insomma Stavo arrivati a fare la prossima partita Andiamo a fare questa Che nel frattempo È una cosa Eh no Prima voglio sistemano Sina V Da blanco Da blanco C'è a 70 Buono Insomma Barella Barella Meno male Meno male è buio Cioè si gioca di sere Che è leggermente meglio Mamma mia Per un momento Pensavo fosse dentro Mamma mia Vai Armstrong Vai Barella Dio Bono Deo Terata centrale Maledetto Finisci Il primo Tempo È un primo Tempo Che Nonostante Si è finito 0-0 È comunque Abbastanza Rivertente Perché Seppur non clamorosi Ci sono state Sì Occasioni Sia da parte nostra Che da parte loro Cioè Andiamo a farselo tempo Guardiamo un po' Magari a favore nostro Di sbloccarla Eh 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 Via 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 No Via 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 Mamma mia Ragazzi Quanto si soffre Quando attaccano loro Dio Che patimento Dio Bono Deo Una girata Abbastanza Attenzione Eh Una punizione Una posizione Pericolosa Vai Armstrong Madonna E' tiro di merda Mamma mia Parata Lei è lì No Meno male È fuori gioco E' paura Ragazzi Bu Che parata Ha fatto Blancodi No E' fuori gioco Maledetta La miseria Di No Non ci voglio Red No Ricorre all'ultimo Mb Ma di Ma che fallo è Ma di Ma che ci vorrei Cosa fa lui Cosa fa lui È Via Al novantesimo Mi va a fanculo Iguain Capite? Poi devo perdere Ma perdere così è proprio vile Insomma finisce così 1-0 Siamo tornati a perdere Vabbè una partita Dispiace solamente Perdere così Insomma via Torniamo al caccio mercato Guardiamo di prenderci Oc che serve Che fra l'altro Barella si è fatta anche male Vabbè andiamo Allora intanto vi L'offerta per De Luca è stata rifiutata 5-5 forse sono troppi Quindi piuttosto provo su Un'altra attaccante Perché fra l'altro De Luca Cioè si è cercato di avere un S Nemmeno un attaccante vero e proprio Quindi Allora Lucas Hernandez Accettato Vai Ale via Vai via Vai via di qua Lige rude Rui Ale via Difensore ci sa Boh Zivkovic 6 milioni Vogliano Prima 4-5 Dello schiocca Il posto di Di Ceccherini Che anche se per ora è di più Però In confronto a Sarri È un po' più vecchio È una crescita più lenta Quindi riesco a fare già più giovani Piuttosto che Quelli Tra virgolette Un po' più vecchi Ora per la voglia di Non è che Ceccherini Abbia 30 anni Però In confronto a Sarri È più vecchio Parlando sempre di Cioci Cioè Tornando i discorsi di prima È venuto in mente Chi c'è lui Andres Pereira De Manchester United Ora io non so Quanto abbia So Che Anche lui È uno di quelli Che Se è fatto giocare regolarmente Può Essere un buon giocatore E ha appunto Una buona crescita Quindi boh Prima a fare un'offerta Cazzo Dio buono È fallita per Zivkovic Tanto che io non avevo visto Che hanno mai accettato Per Correa Prima E quindi Boh Proviamo Proviamo a Offrirle Per Stasi Quei contratto Qui vanno annunciato Per Pereira Qui per Benassi Vanno ad abuso Di soldi Non li ditti loro Allora Pereira Accettato Correa no Proprio rischio Pereira Però accetta anche Benassi Vabbè Cioè ha accettato Benassi Hanno accettato L'offerta Per Benassi Io per aerea Me lo prendo Sperando un sunflop Non so quanto abbia Di totale Spero di ne aver Vuttato via soldi Benassi No Mi sa che va A puttana La cosa Perché non so Se avete visto Guardate quanto vuole Di stipendi E quanto c'ho Cioè Capito È una cosa impossibile Quindi Fermiamoci Un attimino Vintanto Allora Pereira A 70 Non è male Non è tanto Però non è nemmeno male Sperando che possa Poi crescere Siamo arrivati A prossima partita Gioancaza con la Juve Una bella partita E niente Vediamo un po' Guardiamo un po' Le soldi Di questi due giocatori Nandesi E Pereira Vediamo un po' Come si comportano Un chiero Ragazzi Ufficialmente Abbiamo Una media Che supera il 70 Almeno per quanto riguarda I titolari E va bene No Iniziamo Mamma mia Meno male Fuori Vai uno di testa E Maximin Tira Dio Che era per Ere Vestri Boia Bomba ci ha tirato Attenzione Armistrong Vediamo se questa volta Piccionare Via basta Non si tirano più le punizie Finisce il primo tempo E' stato un primo tempo Poco emozionante Sinceramente Pensavo che Con il fatto di giocare Sontro la Juve Magari Non lo so Diciamo Io personalmente Provavo più cose Non lo so Provavo Più a far gol Come è successo all'andata Invece Boh Mi riesce a fare po' Insomma via Speriamo che il suo tempo Possiamo ambiare qualcosa Addio 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 Mamma mia Meno male Porta scoperta Porta libera Meno male Via Vai Pereira No Tipo Va bene Mi garba Mi garba Questo giovanotto Vai Oddio Cicc Mamma mia Si è perso All'ultimo Voi Mamma mia Mamma mia All'ottantese All'ottantese All'ottottesimo Ci mette la firma lui La new entry Andres Pereira E finisce così 1-0 Contro la Juve Oia Bello Poi fa l'arte Ma dov'è che ha fatto Con il proprio nuovo acquisto Pereira Eh ma lo doveva fare Era già Due volte Prova a tirare Con questa volta V3 Cioè col gol E niente Andata bene Dai Viva Tempo di finire La precedente partita Non l'avevo visto Non ci avevo fatto caso Cioè Stavo solamente un giorno In arci mercato Insomma C'è da fare un'altra partita Subito Si Si arriva a giocare con Torcaleri Io non capisco Come mai Jodeb fa Questo Questo calendario Si casual Cioè Corcaleri Ci si è giocato prima Vabbè Comunque Deveva fare questa partita E poi Guardiamo un po' Se nell'ultimo giorno Di mercato Può succedere qualcosa Ora invece Tutti i giorni Stanchi Beh così No basta All'unione All'unione E fa giocare così Via Insomma Guardiamo se comunque In quest'ultima partita Del video Riusciamo a Fa qualcosa Cioè A portare a casa Magari va a che punto Addio 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 No Mamma mia Castagne Sulla linea La leva di testa Addio 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 Si è la prima È la seconda Mare in pane Dopo 8 minuti Addio Addio Mi pare di aver capito Sì Ma sblocca lui 1-0 Cagliari Vai Armistrong Vai Maximin No Poi te che è fuori gioco Ma cosa ha sbagliato Maximin ragazzi Cosa ha sbagliato Dai Dai Nel momento Dopo 20 minuti Si è già capito Comunque Come andrà a finire Probabilmente La partita Magari non dal punto Di vista Risultato Ma Chi la Chi la Andrà a vince Vede Cazzo 2-0 Dopo 20 minuti È un casino Può prendere così Fra l'altro Cherry Dio buono Castandie Si era girato Sì Ai ai Per od Dira Maximin Vede Cazzo Mare Mane Via Un c'è verso Di falgon Questa partita Via Finisce Sì 2-0 E Per l'amore Di Dio Meritato Vantaggio Del Cagliari Però Di Un po' di culo Ogni tanto Mi farebbe male Nel senso Entrasse almeno Un tiro Boh Vabbè Andiamo a fare il suo tempo E guardiamo se succederà Cambio Perché visto che Pereira È lì Per schiantà Metto Barella Fa un po' Tra virgolette Turnover così Lavo Castagne Metto Ceccherini E basta Via Cazzo 3-0 Orte tutto No È finita Speravo in qualcosa Ma niente Sta partita è andata O sì ragazzi Ci può stare E Boh Così Provavo Con Ceccherini Magari La tiravano a porta Ma nemmeno Vello Vai Va Tra addirittura Barbo Oltretutto Mamma mia Certo Voi Quando si perde Bisogna Proprio Perdere Bene Boh Insomma Finisce Sì appunto Va tra zero Meglio Non commentare Il risultato Credo Che parli Da solo Allora Siamo arrivati All'ultimo Geno di mercato Bisogna prendere Quelche svincolato Ragazzi Tanto per fare Numero Promettente Bello Mamma mia Vabbè Prendiamolo È un attaccante Almeno No Le schifo Però Boia Facciamo un'offerta Così Allora Prendiamo lui Anche lui Ma lo ha rifiutato Maledita la miseria Vabbè Prendiamo 3 e 6 Vai Vai Accettato Insomma ragazzi Secondo me Anche se qualcuno di voi Può andarmi un po' contro Io direi di concludere Il calcio di mercato Qui Perché la squadra Bene o male c'è Acquistori Non ce ne possano fare Quindi va bene Ma sì Secondo me Però Prima di concluderlo Proprio definitivamente Cioè Ma è venuto in mente No se ne va a fare O se ne va a provare E se io scambiassi Gnocuri Con Benassi Tipo sì Perché alla fine Credo che Benassi sia Forse più forte Almeno Il valore di mercato Sembrerebbe sì E poi Credo che sia un po' più promettente Gnocuri No? Boh Proviamo Accettato Chiave Addio Un'offerta per Armstrong No Armstrong Che no Rifiuta Caffo Bagliato Via via Non si vuole nessuno Lasciatemi stargelli Accettato E accetta anch'io Speravo di non aver fatto il flop Ragazzi A vedere Andiamo avanti Ciao 76 Il mio curriculum C'era 70 watt Quindi in teoria Insomma ragazzi Stiamo avviando La conclusione Vesta Del carciomercato In sequenza Anche alla conclusione Del video Via Oh Olè Quindi ragazzi Allora Come ho appena detto Il video finisce qua Terminiamo Con comitanza Alla fine Del carciomercato Il video Che è durato anche forse Un po' troppo E E niente Spero Che anche voi Possiate pensare Che il carciomercato Tutto sommato Non è andato Si male Anzi E niente Un attimino Perché Già Io non ci ho fatto più caso Ma come siamo messi in classifica No Ci vogli eredi ragazzi Siamo in Champions League Momentaneamente In zona Champions Che bello Boy Ma ve ne rendete Conto ragazzi Ce l'ho stata Partire prima Vattro a zero Ma guarda di dove siamo Al primo anno di Serie A Ragazzi Soprattutto Gioando a Differta Leggenda Boy Bello Boy ragazzi Davvero No Sinceramente Si Non ho parole Perché è vero Siamo a metà O poco più Però È bello Vedi Il Livorno lì Terzo Bello Vabbè ragazzi Come sempre Però bisogna rimanere Copiati per terra Perché appunto Mancano sempre Quando si arriva 38 No Di partite Quindi mancano sempre 16 A furia E quindi niente Io direi Di concludere Il carcipercato Il video qui E di rivederci Al prossimo video Nel quale appunto Inizieremo Giocando La partita Conte il Verona Arriviamo alle conclusioni Quindi D'anzitutto vi ringrazio Per la visualizzazione E poi Le solite tre cosine Vi ricordo di fare Se volete Queste tre cose Ovvero Di mettere un bel Mi piace al video Se mi fate contento Condividetelo Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Così che Potete Così Oddio Non mi piace più dirlo Così che potrete Rimanere aggiornati Su tutti i video Che caricherò Ma soprattutto Su quello inerente A questa serie qua Ovvero Livorn State of Mind Via ragazzi Vi saluto Che vi ho ottenuto Anche troppo Questa volta Via Ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao